Nato come concorso letterario, si è evoluto in kermesse pittorica, ma punta anche sulla forza delle immagini video. Arte a 360 gradi, quindi per il premio Lupo, nato nel 2006 su impulso dell'amministrazione comunale di Roseto Valfortore. La carovana artistica del premio ha fatto tappa a Faeto, dove sono state esposte le opere del concorso di pittura. Oltre a numerosi artisti locali, la sezione riservata ai dipinti vede concorrere pittori provenienti da Trieste, Genova e Milano. L'esposizione e la galleria itinerante dei dipinti sono stati dedicati alla memoria del maestro Michele Maria Pernice, recentemente scomparso. In questa edizione sono 54 gli artisti che si contendono i premi messi in palio. Nel 2014 furono 36. Con 158 racconti presentati, il premio Lupo ha registrato un'enorme crescita di partecipazione rispetto allo scorso anno, quando al concorso furono presentate 75 opere letterarie. Alla sezione racconti partecipano anche un cittadino statunitense e un giovane macedone. Sono giunte opere letterarie da tutta Italia. L'ottava edizione mette in palio premi in denaro per un totale di 3.300 euro, oltre a notebook, tablet e smartphone. Il nome Lupo è stato scelto per identificare il premio con l'abitante supremo dei Monti Dauni. La novità di quest'anno è la sezione dedicata ai video. Fino al 31 ottobre sarà possibile concorrere all'assegnazione dei premi destinati agli autori dei 5 migliori video, quelli che con più efficacia e poesia riusciranno a descrivere uno o più aspetti della cultura, della vita e della bellezza dei Monti Dauni attraverso un filmato di 60 secondi. Tutti i video che risponderanno ai parametri del concorso saranno pubblicati sul sito www.rec24.it.